segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te anche io e a parte che vorrei fare il paragone con quando è stata assaltata la sede della cgl con una polizia che ha lasciato entrare sostanzialmente in uno dei presidi della democrazia con dei personaggi ben noti non solo alle cronache ma anche alle questure io onestamente siccome me ne intendo abbastanza diciamo persone che si mettono a fare una manifestazione senza mani nude senza nessuno strumento né di protezione di offesa che vengono manganellate in questo modo onestamente lo trovo inaccettabile e siccome ci sono poi dei simboli ma cosa è un errore o un segnale migliore è appunto bisogna capire come lo gestiranno la fotografia del governo no vabbè io voglio dire una cosa ci sono degli elementi simbolici no che nel momento in cui c'è il discorso di insediamento della premier meloni si arriva ad una azione talmente violenta io lo trovo francamente inaccettabile e tra l'altro anche non lungimirante perché evidentemente questo atteggiamento non può fare altro che radicalizzare gli scontri io penso che noi ci troveremo di qui in avanti di fronte ad una crisi che è sempre più incombente siamo già di fatto in recessione di fronte ad una serie di manifestazioni di piazza allora bisogna essere molto chiari e molto precisi su questo la libertà di manifestazione deve essere garantita e deve essere garantita in maniera proporzionata anche rispetto al ruolo delle forze dell'ordine e deve essere ovviamente come è stato spiegato da leonardo garantito il diritto di parola ma siccome la parola si può esprimere anche attraverso uno striscione allora bisogna garantire anche che uno striscione che è inoffensivo e che io ho visto anche in parlamento perché tutta la destra comunque anche le forze di sinistra hanno esposto striscioni di tutti i tipi e questo significa avere la possibilità sulla russa nel suolo ha mancarellato chi lo sappia esattamente allora una cosa sono gli atteggiamenti che io ovviamente condanno quando si mettono manichini impiccati queste cose mi fanno orrore una cosa è esprimere in una facoltà perché tra l'altro c'era un tempo in cui la polizia non entrava all'interno delle facoltà e questo onestamente credo che nel tempio della costruzione tra l'altro a scienze politiche della futura classe dirigente sia un segnale molto negativo allora voglio sentire tutti voi naturalmente parto da sebastiano presento cremaschi presento federico ma qual è il punto attrazione